Raduno collegiale della Nazionale Italiana Senior di Karate presso il Centro Olimpico Matteo Pellicone di Ostielido. Lo stage sportivo, targato come sempre Filcam, si è svolto dallo scorso 1 al 5 settembre. Era presente anche la Ippon Karate Lentini dai maestri Piero e Marco Lentini, attraverso l'atleta Emma Colletti, campionessa italiana assoluta 2023, convocata ovviamente per meriti sportivi. Si rientra dal collegiale dopo 5 giorni di intenso lavoro, dichiara Marco Lentini, raduno in cui la nostra atleta si è potuta confrontare con atleti senior che fanno parte dei gruppi sportivi militari, nonché con molti titolari della Nazionale Maggiore. Si rientra a casa dunque con maggior esperienza e consapevolezza dei propri mezzi. Il raduno collegiale nazionale allo Stielido segue di qualche giorno il Kao Karate Training Camp 2023 di Limido Comasco, a cui ha preso parte pure la Ippon Karate Lentini con Marco Lentini, Emma Colletti ed Irene Marturano. Due esperienze formative nazionali importanti, in attesa di riprendere l'attività agonistica con le prime gare regionali e nazionali previste in calendario.